Allora, in questo video andremo a vedere la seconda tipologia di problemi con i segmenti e che sono i problemi somma multiplo. Di questa categoria fanno parte quei problemi di cui conosciamo la somma della misura di due segmenti e sappiamo che sono uno un multiplo dell'altro. Vediamo qualche esempio. La somma di due segmenti misura 35 cm e uno è il quadrupo dell'altro. Quanto misurano ciascuno dei due segmenti? Allora, per partire a ragionare su questo problema, vediamo di osservare questa informazione, ovvero un segmento e il quadrupo dell'altro. Vediamo quindi di costruirci il nostro disegno, di andare a rappresentare i nostri segmenti. Scegliamo un'unità di misura, qui l'ho scelta di due quadratini. Parto col disegnare il segmento più piccolo. Disegno ad esempio AB e lo faccio di due quadratini. Lo vedo come formato da una singola unità. E poi per andarmi a disegnare l'altro segmento, sapendo che è il quadruplo, in questo caso di AB, allora significa che lo vedevo disegnare quattro volte AB. E quindi lo disegnerò come due, quattro, sei, otto, quindi come un segmento composto da otto quadratini, ovvero quattro unità. Andiamo a scriverci i nostri dati. Quindi abbiamo che la somma di AB più CD vale 35 centimetri, e poi sappiamo che un segmento è il quadruplo dell'altro. Quindi il dato lo posso scrivere come CD uguale ad AB per 4. Le nostre richieste ovviamente saranno quanto vale AB e quanto vale CD. Come possiamo ragionare? Allora, una cosa che ci è molto utile è quella di provare a rappresentare la somma di AB e CD. Per rappresentare la somma di AB e CD dobbiamo fare in modo che i due segmenti diventino adiacenti. Significa che i due segmenti li dobbiamo esattamente disporre su un'unica retta, quindi devono stare sulla stessa retta e dovranno avere un estremo in comune. Quindi decido di rappresentare AB, formato dai miei due quadratini, quindi da una singola unità, e accanto mi ci vado ad attaccare CD, che è il segmento che va da qui a qui, che era formato dalle quattro unità, 1, 2, 3 e 4. A questo punto quindi avremo un unico segmento, che è il segmento AD, il segmento somma, e qui in particolar modo mi ritroverò due punti coincidenti, che saranno l'estremo B del segmento AB e l'estremo C del segmento CD. Cos'è che posso ben osservare da questa rappresentazione? Avrò che la somma di tutti e due i segmenti, quindi questo unico grande segmento AD, sarà, o avrà la misura, di 35 centimetri, e sarà formato da 1, 2, 3, 4, 5 unità uguali tra loro. Queste 5 unità da che cosa derivano? Da una unità di AB e le 4 unità di CD. Questo ci è molto utile perché ci fa capire in che modo noi possiamo ricavare il valore di ogni singola unità. Essendo formate infatti da 5 unità tutto uguali tra di loro, possiamo risalire al valore dell'unità, ovvero al valore di AB, facendo che cosa? 35 centimetri diviso la somma dei vari segmentini che lo compongono. Un segmentino di AB e 4 di CD. Per un totale abbiamo visto di 5 segmenti. Quindi 35 centimetri diviso 5, otterremo che ognuno di questi segmentini vale esattamente 7 centimetri. Quindi avremmo scoperto che AB vale 7 centimetri, perché è formato da un singolo segmentino. Per andarmi a trovare invece la lunghezza di CD, la lunghezza di CD è 4 volte AB. Quindi se un pezzettino vale 7, basta fare 7 più 7, 14 più 7, 21 più 7, 28 o semplicemente fare 7 per 4 pezzettini. Avrò ottenuto la misura di CD. Spero sia chiaro. Un saluto ragazzi. Ciao. Ciao.